Dopo l'episodio avvenuto nei giorni scorsi in contrada a terreforti e di nuova emergenza zecche a Sant'Agata Militello, questa volta negli spazi verdi antistanti, in campo sportivo Viaggio Fresina, nei pressi del porto. A segnalare la presenza dei pericolosi acari, la titolare di un chiosco ubicato accanto allo stadio, che ha subito la puntura di una zecca, dovendo fare ricorso alle cure del pronto soccorso sant'agatese. Una zecca a me mi ha morso, io sono andata a finire in ospedale. Poi la disinfettazione la faccio io con i miei soldi, non è che mi danno niente a me, infatti è in evidente qua, la situazione è qua. Però io davanti qua non ho niente perché io tengo pulito sempre, tengo pulito perché c'è il mio locale qua vicino, è un'associazione questa e io devo tenere pulito, stesso per le persone che vengono. Mi sembra che è stato un mese e mezzo fa che sono venuti qua a pulire, mi sembra se non faccio sbaglio. L'emergenza è stata segnalata all'assessore con delega al verde pubblico, Calogero Pedalà. Raggiunto da noi telefonicamente, Pedalà ha rassicurato. Ove ne ricorrano i ripresupposti interverremo con le stesse modalità adottate a terre forti con specifiche attività di disinfestazione. E aggiunge, il caldo intenso, poi la pioggia e infine l'estate settembrina hanno determinato un susseguirsi di condizioni microclimatiche ideali per lo sviluppo di erbacce, parassiti e infestanti, comprese le zecche. Un intervento a tappeto su tutto il territorio sarebbe troppo oneroso per le casse comunali, ma possiamo intervenire con interventi mirati laddove il fenomeno è evidente e viene segnalato. Per le aiuole in questione, affidate con delibera di giunta comunale 112 del 29 novembre scorso alla Sicilia SAS, sezione ACI di Sant'Agata Militello, di cui è legale rappresentante la signora Gisella Russo, mi risulta che servono stati effettuati quattro interventi di scerbatura nel periodo estivo e nell'area sarebbe stata disposta anche la potatura degli alberi.